Oggi ci troviamo in via Genova per raccogliere la disperazione, l'esasperazione di tanti residenti vittime di furti nelle proprie case, una realtà che si protrae ormai da tantissimi mesi e alla quale si chiede di porre rimedio. Ciao a tutti benvenuti a questa nuova puntata del quarto d'ora accademico mi trovo in via Genova qui alle mie spalle una vecchia conoscenza della politica pavese Giovanni Galiena buongiorno Giovanni allora cosa succede qua in via Genova è stato teatro negli ultimi mesi nell'ultimo anno di parecchi furti ci sono molti topi di appartamento che visitano queste abitazioni queste residenze Giovanni cosa possiamo dire al riguardo? A riguardo a che via Genova da un paio d'anni è stata presa di mire dai lati di appartamento noi sono venuti tre volte la mia io sono stato il primo lui il secondo Ancone Cani il terzo palazzo dei pompieri tre volte questa qui queste villette le hanno visitate tutte i palazzi l'anfondo 1 2 negli appartamenti ma di giorno eh di giorno allora qui avanti mi diceva poco fa Enza che poi inquadriamo c'è stato anche un trasloco in spieno giorno stavano rubando i mobili no no gliel'hanno fatto la villetta bianca in fondo a 200 metri è una donna sola era via voce è una donna sola si chiama sale vedova professor sale era il suo marito era via e con il camion sono stati in casa e hanno portato via poi i mobili di giorno di giorno qui vi siete organizzati in qualche maniera tra di voi per avvisarvi nel caso in cui esistessero ancora episodi di questo genere ma noi siamo in contatto fra di noi se succede qualcosa uno sente suonare l'allarme e se qualc'altro però questi probabilmente come dire curano bene quando c'è qualche basista sospettate sicuramente sicuramente buongiorno buongiorno a voi buongiorno lasciamo un attimo giovanni grazie giovanni per il tuo contributo qui alle mie spalle altri residenti che desiderano denunciare quello che accade è vero comunque che il quotidiano locale ha già dato ampio spazio a quello che è accaduto in questi ultimi mesi qui abbiamo una presenza una storia della pallacanestro pavese Dante Alconetani ciao Dante anche tu vittima vittima ultimamente cos'è accaduto sono entrati dalla finestra il giorno più o meno verso le 11 e mezza perché c'è un intervallo dove non c'era nessuno in casa da 10 e mezza alle 12 e mezza sono entrato dalla finestra e c'era l'allarme ma non ha suonato perché non hanno aperto la finestra e hanno spaccato un po' di roba un danno magari hanno rubato qualcosina qualcosina di importante di valore ricordi anche affettivo Gastoni soprattutto noi sono entrati verso le 9 in 5 minuti hanno fatto razzia nel 9 di sera le 21 e hanno fatto razzia hanno fatto un macello sopra hanno fatto via diverse cose quindi una via abbastanza frequentata ma in sostanza cosa chiedete chiediamo una vigilanza una telecamera una protezione soprattutto perché visto considerato che è una via abbastanza tranquilla molto tranquilla ridosso del parco della vernavola in una bellissima posizione e con pace serenità e tranquillità che comunque è minata e guastata da questi episodi che sono per usare un eufemismo antipatici ma odiosi Enza Fantò io voglio dire che questa via apparentemente tranquilla viene comunque visitata costantemente da questi ladri noi non vediamo nulla in apparenza qui non c'è nulla io giro col cane ma non trovo nulla però vedo i miei vicini disperati e questo mi dà molto dolore perché ho raccolto la disperazione della suocera di Anconetani ho raccolto la disperazione di Carlo perché portano via tutti i loro ricordi tutti i loro affetti e tutta la loro fatica quindi noi chiediamo un controllo del vicinato che doveva essere messo in atto e chiediamo altresì delle telecamere per vigilare almeno diciamo non diciamo che poi tutto può essere risolto con queste due cose però quantomeno che qualcuno intervenga e ci dia una mano a risolvere questo problema così noi non possiamo andare avanti siamo disperati comprensione chiaramente solidarietà nei vostri confronti io penso da consigliere comunale nonché da presidente onorario di questo centro culturale che sia opportuno non trovare delle giustificazioni in merito alle carenze delle forze dell'ordine su per quanto riguarda l'organico è necessario ed opportuno soprattutto in circostanze come queste trovare delle soluzioni la politica le istituzioni devono trovare delle soluzioni anche perché sono preposte appunto per fare ciò una volta che esistono esigenze come questa che sono testimoniate anche da ciò che abbiamo sentito qui oggi la politica deve muoversi deve trovare delle soluzioni rodolfo parliamo di 14 circa 14 furti una rapina che è stata fatta è stata fatta qui da sotto i miei occhi non mi sono resa conto di quello che accadeva quindi 14 furti in una strada lunga circa tre quattrocento metri mi sembra veramente una roba eccessiva quindi chi deve intervenire intervenga per favore bene bene anzi auspichiamo vi siano degli interventi concreti non solo parole non solo giustificazioni ma che si possa dare delle risposte vere e che possa essere messa in attenzione la situazione che qui oggi viene denunciata da via genova è tutto alla prossima puntata arrivederci